Presentato a Matera nell'Aula Sassu dell'Università degli Studi della Basilicata, il volume Camillo d'Enrico 1821-1897 e le rotte mediterranee del collezionismo ottocentesco curato da Elisa Canfora e Mauro Vincenzo Fontana e realizzato grazie alla collaborazione tra il comune di Palazzo San Gervasio, l'ente morale Camillo d'Enrico, l'Unibas Dipartimento delle Culture Europee del Mediterraneo e la PT Basilicata uscito a corollario dell'omonimo convegno internazionale di studi promosso nel novembre scorso e concepito come un'indagine a vasto raggio sul collezionismo nazionale e internazionale nel XIX secolo il testo, portando a risultati di notevole interesse su questo fenomeno, ha offerto nuovi spazi di manovra accanto ai contributi di Canfora e Fontana, il volume raccoglie gli interventi di alcuni affermati specialisti sull'argomento e permette di leggere la preziosa raccolta d'Enrico il suo creatore, nonché la stessa famiglia palazzese, mettendone a fuoco gli orizzonti che non furono per nulla marginali anzi, attraverso le relazioni accertate con la capitale partenopea si legarono alla circolazione mediterranea del gusto e della cultura del collezionismo la conferma che Camillo d'Enrico è uno dei più illustri cittadini lucani della storia moderna che nella seconda metà dell'Ottocento mise insieme una delle più straordinarie raccolte d'arte dell'intero meridione Oggi presentiamo l'ultimo volume del convegno internazionale Camillo d'Enrico, le passioni di un collezionista in ordine di cronologica è la sesta pubblicazione scientifica che il nostro ente in cinque anni ha messo in campo con l'università di Basilicata, con la scuola di specializzazione in archeologia e con il polo museale di Basilicata Questo per noi è motivo di vanto, motivo di rilancio per i giovani lucani ricercatori di questa università che tanto hanno dato alla cultura e tanto stanno dando e quindi noi stiamo cercando di prendere bandi nazionali, bandi esterni portare economia in Basilicata e dar lavoro ai giovani lucani